A Teramo, con l'arrivo del nuovo calendario della raccolta differenziata, c'è stata una svista evidente nel servizio al ridosso delle festività, a vantaggio del vetro che è stato raccolto due volte a distanza di pochi giorni. I cittadini terramani lo avevano notato subito, visto che dal 29 dicembre al 5 gennaio, ovvero per una settimana, non sarebbe stata raccolta la frazione organica, il che in concomitanza delle feste della fine dell'anno avrebbe arrecato problemi e disagi nelle famiglie. Tra l'altro la stessa Team questa attenzione l'aveva usata nel periodo natalizio, dove l'organico è stato addirittura raccolto a distanza di 48 ore, proprio perché l'ultima raccolta era stata effettuata sabato 22 dicembre. Eh sì, è evidente, purtroppo ci scusiamo con i cittadini, si è verificato questo problema, tra il passaggio tra l'anno vecchio e l'anno nuovo si sono verificati dei problemi e quindi i cittadini stanno tenendo dentro casa, insomma un organico di diversi giorni, quindi adesso abbiamo sollecitato a Teramo a trovare qualche soluzione, interessarsi per affrontare al meglio e cercare di risolvere il problema. Speriamo magari di essere più attenti il prossimo anno che non succeda questo, perché si era stato fatto un nuovo piano di raccolta, però questo poi, questo disservizio non era previsto e quindi, insomma, va evitato perché poi crea disagi ai cittadini, soprattutto persone anziane o chi non ha troppo spazio in casa, è un problema abbastanza che, diciamo, crea problemi a non finire, quindi va in novitato. Adesso abbiamo, ieri abbiamo avuto un incontro con la TEM, con il responsabile della TEM, e abbiamo sollecitato magari di trovare qualche soluzione per sopperire a questa problematica. Una problematica su cui la TEM ha annunciato che, per agevolare i conferimenti di tutti i rifiuti urbani ed in particolare dei rifiuti organici prodotti durante il periodo festivo, sarà prevista per le utenze domestiche un'apertura straordinaria del centro di raccolta, situato in contrada Carapollo, a partire dalle ore 12 alle ore 18 fino al 12 gennaio compreso.